Stefano De Martino è pronto a condurre affari tuoi. Il presentatore era negli studi Rai e ha mostrato che sta iniziando la sua preparazione. Il conduttore Rai Stefano De Martino sembra essere pronto per iniziare a condurre affari tuoi. Poche ore dopo la presentazione dei palinsesti Rai, il presentatore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra il simbolo della trasmissione iconica di Rai 1. Stefano De Martino è uno dei volti su cui la Rai ha deciso di puntare per il rinnovamento della rete. L'azienda ha deciso di puntare sul conduttore partenopeo che, nel corso degli anni, si è dimostrato sempre di più per essere uno dei presentatori più talentuosi della televisione. Tra i suoi progetti per il futuro c'è la conduzione di Affari tuoi. Stefano De Martino, pronto per la nuova edizione di Affari tuoi. Alcune ore fa l'ex ballerino ha pubblicato una storia su Instagram mostrando come i preparativi per la nuova edizione sono già iniziati. La nuova stagione di Affari tuoi inizierà tra pochi mesi, ed è reduce dal successo di Amadeus. Il conduttore come è noto passerà sul 9, e non sarà più tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Il programma di Rai 1 avrà delle modifiche nonostante resterà la struttura classica del game show con l'apertura dei pacchi. De Martino ha pubblicato nelle sue storie in retroscena sulla sua presenza. Il conduttore Rai ha condiviso uno scatto dove compare una foto con l'iconico pacco, appartenente alle vecchie edizioni con il numero 11. Per gli appassionati del programma è stato semplice pensare che si possa trattare di un ritorno al passato, ma non è ancora chiaro. Le nuove puntate dovrebbero iniziare a settembre, ma già fervono i preparativi dietro le quinte degli studi Rai, nello storico Teatro delle Vittorie, dove da anni si registra Affari tuoi. Proprio in quello studio è stato girato il promo della nuova edizione, compreso di vecchio telefono. Le prove per la conduzione del nuovo programma si sono svolte a fine giugno e De Martino ha superato a pieni voti i diversi step della trasmissione. Nel futuro del 34enne ci sono diversi progetti all'orizzonte, tra cui un ruolo in tale e quale show, dove sarà il quarto giudice a rotazione. Quando verranno presentati i palinsesti Rai si farà chiarezza in merito agli spazi che avrà in prima serata, tra cui un possibile ritorno di stasera tutto è possibile.